ciao a tutti a tutti in questo video vi faccio vedere come realizzare questa borsettina per la festa della mamma e per questo progetto abbiamo bisogno di del feltro dell'altezza dello spessore di 3 mm della stoffa della carta per fare il modellino è un modellino largo 11 centimetri alto 8 e nel punto più largo di 12,5 centimetri comunque farò la foto e la metterò nel blog del filo un ago ovviamente e le forbici verrà rifinito tutto a punto festone e ovviamente la pistola con la colla a caldo quindi vi lascio al video alla fine vedrete come utilizzerò questa borsettina appunto come regalo per la festa della mamma e vi lascio al tutorial ciao 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 ecco qui possiamo riempirla con sacchetti di lavanda profumata e un sapone una lozione una qualsiasi cosa per arricchire il regalo e questo è un pensierino facile e veloce per per la festa della festa della mamma io vi aspetto al prossimo video ci vediamo presto ciao ciao